Cosa farei se dovessi entrare nel mondo del lavoro solo oggi? Buongiorno e bentornati al caffettino podcast, buon fine agosto, non so se siete già rientrati o state rientrando ma questo è un periodo in cui tante persone forse andranno nel mondo del lavoro, entreranno in un'azienda per la prima volta dopo gli studi o dopo un periodo di vacanza. E cosa farei io se dovessi entrare solo oggi in questo periodo nel 2022, a settembre 2022 nel mondo del lavoro oggi e non avere l'esperienza che ho fatto negli ultimi vent'anni? Vi dico cinque cose che farei oggi. La prima è sicuramente cominciare a studiare, so perché sembra strano, uno comincia a lavorare e comincia a studiare, beh a me è un po' successo così, ho cominciato a studiare, di informarmi, ad approfondire proprio quando sono entrato nel mondo del lavoro, cioè quando ho capito che le cose poche o tante che avevo appreso dalla scuola non erano sufficienti e che quindi dovevo in qualche maniera per essere al pari e per superare, per migliorare ogni giorno, cominciare a studiare. La seconda cosa molto importante è cercare all'interno dell'azienda o anche fuori dall'azienda qualcuno che ci faccia da mentor, cioè ci aiuti in un processo non soltanto di miglioria tecnica ma anche a vedere le cose nel suo complesso. Qualcuno quindi di più esperto, anche magari con qualche anno in più, che ha già vissuto le nostre cose, i nostri passaggi, i nostri inserimenti e che ci può supportare. Questo mentor poi per me e spero anche per voi cambierà a seconda dei tempi, ci saranno diversi incontri, alcuni esperti dicono ogni 3, 4 anni, 5 anni, 7 anni, non lo so, ma sicuramente mentre voi studiate e vi evolvete cambieranno anche i vostri mentor di riferimento per passare ogni volta allo step successivo. La terza cosa è cercare di innamorarsi delle proprie abilità e delle proprie capacità e non soltanto farle lavorare ma cercare di accompagnare questo processo di crescita e diciamo di inserimento nel mondo del lavoro anche nel conoscere per davvero come siamo fatti. È la cosa più complicata, più difficile anche da fare e anche da accettare. La quarta cosa è cercherei di non vedere la mia evoluzione di carriera o di lavoro come una sorta di classifica, sempre in alto, ma come un percorso che si può spostare di zona, si può spostare di categoria, anche di settore. Spesso non è detto che uno debba lavorare sempre nella stessa industria, modificare, capire, mettere in gioco quegli elementi per potersi migliorare nella vita, non soltanto nel lavoro. La quinta e ultima è non distaccarsi dalla realtà e anche dalla realtà estera. Spesso quando usciamo da un percorso universitario dove abbiamo fatto dei percorsi in giro per il mondo, entriamo nel mondo del lavoro e ci chiudiamo. Invece no, è proprio quello il momento giusto per continuare ad aprirsi. Magari mettersi all'interno del nostro calendario lavorativo una volta al mese, tre giorni, quindi prendersi magari un giorno di ferie per fare tre giorni in un evento, tre giorni in una situazione diversa, di scambio magari con dei vostri partner internazionali, cercare degli eventi per poter creare un network. E questo ultimo punto, creare un network anche internazionale è molto importante. Chiaramente diamo per scontato che le lingue si studino da questo punto di vista perché sennò dove vai? Quindi chiaramente, lo so, condivetemi anche i vostri, i vostri suggerimenti, i vostri passaggi e che cosa aggiungereste alla vostra vita passata se doveste ricominciare oggi il vostro mondo del lavoro. Io sono Mario Moroni e questo è il Caffetino Podcast, vi aspetto sul canale Telegram Mario Moroni Canale e seguimi e scrivimi sui social, soprattutto su LinkedIn. Fate i bravi, a domani! Grazie a tutti!